le usa fel non c'erano quelle a forma di diamante quindi appunto due elementi su tre su con appunto le jerry bags quelle c'erano però gli altri due no quindi appunto io ho provato il pic per la prima volta sul campo gara dei games ho sollevato il primo mi sono tipo ribaltata ci sono rimasta sotto al terzo mi è partito la lenta con tazzo tra l'altro un disastro però sì c'erano molte cose che non si potevano provare in a warm up